Eccoci qua, non è che si è rimpicciolito lo studio, il nostro tavolo di lavoro, è che siamo già in postazione per la lunga no stop che parte praticamente alle 22 e 30, ma prima abbiamo il telegiornale, sono un po' spettinato ma non è la cosa più importante, dopo facciamo i conti. No scherzo, assolutamente, allora che cosa succede? Lo sapete tutti, c'è un'attesa a livello europeo per questi risultati, ovunque il dato è che c'è un'affluenza superiore alle aspettative e anche in Italia sarà con ogni probabilità superiore a quella non soltanto di 5 anni fa ma forse delle stesse politiche dello scorso anno, vedremo, prematuro dirlo. Altrove, in alcuni stati già si conoscono i risultati di queste europee e il dato saliente per ora è la vittoria dei popolari, non ovunque forte, ma però vincono in Austria, trionfalmente, lì crolla ma non così come si poteva aspettare il partito della destra, lo scandalo ostrache. In Germania non avanza tanto la FD, Alternative for Deutschland e non cresce, anzi perde consensi 6-7 rispetto all'ultima volta il partito cristiano della Merkel, però lì crollano i socialdemocratici e i verdi superano il 20%. Insomma, ci sono tanti risultati importanti e come vedremo, praticamente tra due minuti escono gli exit poll dalla Francia e in Francia ci sono voci, secondo cui ci sarebbe stato poi il sorpasso sul partito di Macron da parte del Rassemblement National di Marine Le Pen. Ma appunto, è questione che capiremo tra poco e in Italia, in Italia ovviamente si vota ancora per tre ore, vedremo i dati di affluenza, vedremo anche di spiegarvi come funziona questa sera l'attesa, cosa vi daremo alle 11, exit, proiezioni, tutte queste cose perché poi ci prepariamo ovviamente alla gran serata. Poi scopriremo se davvero si stanno per fare addirittura domani le nozze tra Fiat Chrysler e Renault e non solo. Ci fermiamo subito, 30 secondi, poi entriamo direttamente col telegiornale e abbiamo immediatamente forse il risultato dell'ex poll francese. Eccoci qua, allora, senza titoli perché andiamo subito a Parigi, andiamo a vedere quel che succede, la musica, no però. Ho già perso la voce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La barra dei 5% è passata per la France Insoumise. E Manon Aubry, on guarda d'autres listes, bien sûr, e là, il faut essere ancora prudent. E c'è quello che dice Bernard Sananès, perché la France Insoumise e la place pubblica per il rassemblement nazionale sono tanti a 6,20%. Nicola Dupont-Aignan passa la barra dei 3%, ciò che gli permette di avere i remborsi dei frai di campagna, ma secondo i nostri estimati, il non envoie di deputati. Andiamo a Sognazione 10, stiamo vedendo come si vive in Francia in questo momento. Il momento c'è il sorpasso da parte del rassemblement nazionale, ve l'avevo già detto, nei confronti del partito di Macron, la République en Marche. Non preoccupatevi della mia voce, posto che qualcuno se ne debba preoccupare. Allora, questo è quello che è successo in Francia, cosa sta succedendo in Italia intanto? Cristina Fantoni dal Viminale, qual è l'affluenza? Buonasera, buonasera dal Viminale. L'affluenza, al dato quello aggiornato dalle 19 in poi, siamo al 43,67% di affluenza, per dare un'indicazione rispetto a dove eravamo rimasti nel 2014, 41,95%, quindi un dato che si conferma in linea con un leggero aumento, anche se l'aumento rispetto agli altri paesi europei non è così elevato. Per quel che riguarda ti faccio vedere anche i dati delle regionali e delle comunali, 49,69% per le regionali, 55,09% per le comunali. Naturalmente questo è un dato che verrà raffrontato rispetto alle precedenti comunali e solamente quando si avrà il dato complessivo, perché le altre comunali erano comunali con più chiamate, si votava anche lunedì e dunque solo alla fine si potrà fare una mano di conti. Ti aggiungo, secondo me, un dato interessante su come si è votato in Italia, da nord a sud, una chiamata al voto che riguarda principalmente e soprattutto il nord. Eccola qui la schermata che volevo farti vedere. Da nord a sud, dunque chiamata al voto più sentita nelle regioni del nord, bianco è dove si è votato meno, nero dove si è votato di più, e dunque scorrendo dalle isole fino alle circoscrizioni del nord ed è chiaramente evidente come la chiamata al voto sia per il momento e tendenzialmente fino alle 23, quando poi avremo il dato definitivo dell'affluenza più consistente nelle regioni del centro nord. Allora c'è la possibilità, l'evocavo prima, che si arrivi addirittura sopra la percentuale delle politiche del 4 marzo? C'è la possibilità, assolutamente sì, che si arrivi, è quello su cui si sta riflettendo anche in questi minuti, perché tutti i dati sono dati comunque in aumento, ci sono anche dati relativi, adesso non te li faccio vedere, alle singole città c'è un dato tendenzialmente positivo in aumento, ripeto, non un aumento così consistente rispetto ad altri dati delle altre regioni europee, ma per quel che riguarda i comunali sì, c'è questa concreta possibilità. Allora abbiamo visto quindi, grazie Cristina, magari torniamo dopo a parlare con te, abbiamo visto come la situazione in Italia sia simile a quella di altri paesi, dove si è votato molto di più, Francia addirittura molto molto di più dell'anno scorso, dei due anni fa, in Germania il record, il 60%, mi pare un 10% addirittura in più delle scorse europee. Ma vediamo in Germania come è andata, perché lì hanno chiuso le 6, gli exit poll sono delle 6 e ci sono anche quelli dell'Austria e non soltanto. Il primo terremoto politico di queste elezioni europee, almeno stando agli exit poll, si sarebbe verificato proprio nel paese più importante, in quella Germania, locomotiva d'Europa da qualche tempo un po' inceppata, dove entrambi i componenti della grossa coalizione avrebbero subito una battuta d'arresto. Clamo rosa per la CDU-CSU della cancelliera Angela Merkel e del candidato alla presidenza della Commissione del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, che rispetto a 5 anni fa avrebbe perso tra i 7 e gli 8 punti percentuali, attestandosi intorno al 28%. Epocale per un partito socialdemocratico sempre più in crisi di identità, precipitato di quasi 12 punti al 15,5% e che, corollario locale, potrebbe dover subire l'onta di perdere Brema dopo 73 anni di governo ininterrotto. A trionfare, però, non sarebbe stata, come paventato da più parti, l'estrema destra di alternative für Deutschland, che pure avrebbe ottenuto un buon risultato crescendo di 3,5 e arrivando al 10,5%, bensì uno tra i partiti più europeisti del panorama politico tedesco, quei verdi che avrebbero praticamente raddoppiato i propri consensi, sottraendo un milione di voti ciascuno a CDU e SPD e diventando, con il 22% il secondo partito di Germania a spese della stessa SPD. C'era molta attesa, soprattutto per capire le prospettive dell'estrema destra della FPE dopo lo scandalo che ha portato alle dimissioni del vice cancelliere Strahe, anche per i primi exit polaustriaci. Ebbene, come previsto, a sottrarre consensi all'attuale partner di governo sarebbe stato il partito popolare del premier Sebastian Kurz, segnalato in testa al 34,5%, 7,5% in più rispetto alle precedenti elezioni politiche, simmetricamente la FPE avrebbe perso l'8,5%, scendendo al 17,5%. Tra i due alleati rivali i socialdemocratici in leggero calo, anche in questo caso notevole l'expload dei Verdi che sarebbero risorti dopo la debacle delle ultime elezioni legislative attestandosi al 13,5%. Sia Germania che Austria comunque sembrerebbero confermare l'accennata tendenza di una tenuta delle forze europeiste e di un mancato sfondamento della destra sovranista tendenza aperta con i primi exit pol relativi all'Olanda, dove si è votato giovedì e dove, anche grazie all'effetto trainante della candidatura alla presidenza della Commissione per il Partito Socialista Europeo di Franz Timmermans, il partito laburista avrebbe ottenuto una insperata vittoria a spese soprattutto del Partito per la Libertà di Gert Wilders, il PVV, sul classato a destra dal Forum per la Democrazia FVD di Thierry Baudet. Di rilievo anche i primi risultati relativi alla Grecia, dove Siriza di Alexis Tsipras, pur dimostrando una certa tenuta con il suo 27%, sarebbe stata ampiamente scavalcata dal centrodestra di Nea Democratia, data al 36% in un antipasto di quello che potrebbe accadere alle prossime elezioni di ottobre. Anche in questo caso l'estrema destra rappresentata dai neonazisti di Alba Dorata non avrebbe sfondato, rimanendo intorno al 6%. Quindi come vedete i popolari sono a quanto pare fin qui i vincitori nei paesi di cui già si conosce più o meno l'esito attraverso gli exit poll. Le destre non avanzano come vorrebbero, soprattutto ci sono grandi sconfitti come Gert Wilders in Olanda, non va molto avanti l'AfD in Germania, non crolla però come si sarebbe potuto pensare il partito di Strache in Austria e quanto alle forze socialdemocratiche non reggono particolarmente e soprattutto in Germania la scoppola che ha preso la SPD al 15% è storica, memorabile. È la prima volta nella storia di quel partito che si arriva a quella percentuale. E poi c'è quello che è successo in Francia con appunto a quanto pare l'assemblement di Marine Le Pen oltre il 23% e con quasi due punti di vantaggio rispetto al partito del Presidente Macron. Questo finora, ma andando avanti troveremo anche gli altri paesi e poi si arriverà fatalmente a noi. Noi, se non c'è il mio decesso prima, ci vediamo poi alle 10 e mezzo nella nostra non-stop. Dove ci sarà qualcosa di particolare? Perché alle 23, quando chiudono i seggi, cosa ci sarà? I soliti exit poll con i rischi che avevamo? Abbiamo pensato di fare un prodotto più adeguato. In che modo? Ce lo spiega Rado Fonda, SVG. Buonasera, buonasera da Milano. Siamo qui pronti per questa nuova tornata di elezioni. Ormai con la sette siamo di casa. Vi racconto appunto cosa vi potremmo mostrare oggi. avremo diversi appuntamenti. Diciamolo subito, dai Fonda. Fonda, diciamolo subito. Alle 23 c'è una cosa che si chiama multipoll, no? Che non è multipoll. Multipoll, vero? Sì, multipoll che è praticamente una combinazione di metodi di rilevazione diverse che sono in particolare i sondaggi preelettorali che vengono svolti nelle giornate immediatamente precedenti alle elezioni che ci consentono di seguire la tendenza degli orientamenti di voto e degli indecisi. Dopodiché abbiamo, oggi stiamo rilevando, gli instant poll che sono le interviste telefoniche online con chi ha già votato e il classico exit poll con indagini fuori dai seggi. Tutto questo ci fornisce tre fonti di dati diverse che vengono analizzate assieme e ci consentiranno di darvi una prima stima delle tendenze di voto alle 23. Ora, vediamo di capire. Alle 23 avremo questo multipoll che è una forchetta poi per forza perché unendo tre dati diversi o combaciano perfettamente o si fa un range, una forchetta da un minimo a un massimo per le varie forze. Praticamente tre quarti d'ora dopo, un'ora al massimo, avremo le prime proiezioni. Quindi già a mezzanotte possiamo dare quello che si chiama il voto di pietra nel vostro gergo, giusto? E poi andiamo avanti nella notte. Esatto, sì. Il dato delle proiezioni sarà sicuramente più preciso mentre quello dei multipoll sarà in forma più di forchetta perché appunto sono delle linee di tendenza generali. Perfetto, rassicuro anche gli esteti tra i nostri telespettatori, non sarà radofondo, sto scherzando a dare i dati, ma Alessandra Dragotto come è tradizione già dallo scorso anno. Questo fin qui per i dati elettorali, per questa vicenda in sviluppo così importante che vivremo insieme per tutta la notte. Tra l'altro lo studio si popolerà con i protagonisti, con gli opinionisti che già avete conosciuto nelle altre occasioni. Adesso non ve li cito tutti perché già la voce è quella che è, ma sono metà di mille. Vi posso dire che già ai bordi del campo vedo la celata che ovviamente non si è lasciato perdere l'occasione, Alessandra Sardoni che seguirà la Lega tanto per intenderci e insomma un po' tutti gli altri. È inutile che adesso vi faccia la lista anche perché ho in programma di farvela alla fine del telegiornale. Andiamo a vedere le altre notizie. Innanzitutto andiamo a vedere subito questa vicenda di Fiat che si potrebbe maritare con Renault. Come stanno le cose? L'accordo con Renault sarebbe chiuso e già nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato da Fiat Chrysler. L'alleanza che si perfezionerebbe grazie a uno scambio azionario sarà al centro domani mattina prima dell'apertura dei mercati anche del CDA della Renault. Nascerebbe così un gigante europeo da 33 miliardi capace di insidiare Volkswagen e battere General Motors. Ma il piano sarebbe ancor più ambizioso perché in un secondo momento potrebbe nascere anche un legame industriale con Nissan e Mitsubishi che già sono assieme a Renault. In questo caso prenderebbe forma un vero e proprio colosso. FCA, Renault, Nissan e Mitsubishi diventerebbero infatti la più importante casa automobilistica al mondo con 15,6 milioni di vendite all'anno. Ben al di sopra della Volkswagen che si ferma a 10,8 milioni. L'indiscrezione pubblicata per prima dal Financial Times non è stata commentata dalle due parti ma Fiat Chrysler in passata ha più volte ribadito di essere propensa a dialogare con tutti. Se c'è una fusione o un accordo che ci rende più forti allora sono assolutamente aperto a valutare aveva spiegato l'amministratore delegato di FCA Mike Malley. I francesi invece sono impegnati a garantire un futuro al loro gruppo dopo l'arresto in Giappone di Carlos Gosn, l'ex amministratore delegato accusato di reati fiscali di sottrazione di fondi. Secondo quanto riportato dal Financial Times le trattative sono state rapide e hanno portato a fallimento dei contatti tra FCA e PSA, vale a dire il gruppo Citroën, Peugeot e Opel. L'affare, spiegano gli analisti, sarebbe conveniente per tutti. Renault avrebbe la possibilità di accedere al mercato nordamericano e grazie ai marchi Alfa Romeo e Maserati potrebbe occupare per la prima volta una fascia particolarmente redditizia, quella delle auto di lusso. Fiat Chrysler invece potrebbe accelerare sull'elettrico e sulle nuove tecnologie. Meno scontata l'intesa successiva che dovrebbe legare FCA con Nissan e Mitsubishi, considerate le tensioni tra francesi e giapponesi. Attualmente Renault è in posizione dominante visto che possiede il 43% delle azioni Nissan e tutti i diritti di voto, mentre i giapponesi hanno solo il 15% delle azioni Renault. Torniamo alle elezioni europee perché i dati francesi, andiamo sulla segnazione 10, c'è aspettativa ancora per le dichiarazioni dei leader, andiamoci a tutto schermo. Perché? Perché i dati cosa ci dicono? Due cose importanti. Innanzitutto che appunto praticamente in Francia c'è il successo di Marine Le Pen con il 23,2%, il 21,9% per il partito di Macron, ma dietro anche qui i verdi, 12,8%. Grande quindi il successo del movimento verde. Ma quello che fa comunque scalpore è il risultato delle sinistre. Si sa che il partito socialista è in difficoltà, ma non si poteva immaginare che sarebbe sceso ancora rispetto a due anni fa alle presidenziali. Infatti il PES scende al 6,5%. E quanto al partito di Mélenchon, quello di sinistra più pronunciata, quello che è stato al fianco dei gilet gialli, tanto per intenderci e che poteva pensare a un successo maggiore, in realtà si sarebbe fermato a sua volta al 6,7%. Quindi praticamente stiamo parlando di una situazione molto inferiore alle aspettative. In questo momento stanno arrivando anche i dati spagnoli che fanno capire che c'è stato anche qui, come poche settimane fa, le politiche, un successo del partito. Socialista invece del PSOE e che avrebbe più 4 seggi e ne avrebbe persi 4 o 5 il partito popolare. Sono andati bene Ciudadamos e Podemos. Vox arriverebbe al Parlamento europeo con 4 o 5 parlamentari. Questo con gli aggiornamenti, ma andiamo a vedere adesso un'altra storia proprio in Spagna. Ne abbiamo parlato ieri, vediamo cosa è successo per quei ragazzi napoletani. Un video brutale, pochi secondi che documentano una rissa che rischia di finire in tragedia. E' questa l'unica parte che si può mostrare di quanto successo la mattina di sabato a Cadice nel sud della Spagna al termine di una giornata come tante nella zona della Movida della città Andalusa. Dopo una serata passata in uno dei locali di Punta San Felipe, Molo, estremo della Darsena all'esterno della discoteca. Momart comincia o forse degenera una lita che vede coinvolti anche 4 ragazzi italiani, studenti Erasmus. Uno di loro, Emilio Di Porto, 29 anni di Napoli. Colpisce con un violento calcio al volto un ragazzo spagnolo di 30 anni, già a terra dopo aver preso un cazzotto. L'arresto di Di Porto è stato confermato oggi. L'accusa dovrebbe essere di tentato omicidio, ma il capo di imputazione potrebbe cambiare se dovessero peggiorare le condizioni della vittima dell'aggressione ancora in coma all'ospedale di Puerta del Mar e sotto stretta osservazione dei medici. Sono stati invece rilasciati gli altri tre ragazzi, due provenienti dalla campagna, che erano con lui al momento della rissa, verranno denunciati ma potranno fare ritorno in Italia. Ancora da capire come sia potuto succedere, perché una serata di festa sia potuta degenerare con questa rapidità e perché non siano intervenuti immediatamente i bodyguard del locale che si sarebbero limitati a documentare con questo video quello che stava accadendo senza però separare i litiganti. Questa vicenda ricorda per la tragica crudeltà delle immagini quanto è successo sempre in Spagna. Iuriedemar Costa Brava nell'agosto del 2017. Niccolò Ciatti, toscano di 22 anni, venne pestato e ucciso nell'indifferenza dei passanti da tre ragazzi russi accusati poi di omicidio. Quindi abbiamo già dato un po' a fiume carsico in questo telegiornale, molte notizie sulle europee. Affluenza buona ovunque, abbiamo detto vittoria soprattutto delle forze popolari, in un caso vittoria della destra sovranista con Marine Le Pen in Francia, un dato che è comune alla Francia e alla Germania, una forte avanzata dei verdi, oltre il 20% in Germania, oltre il 10% in Francia. Le sinistre che soffrono sia a Parigi sia a Berlino e anche per dire il vero un po' in Austria, dove comunque non sfruttano che in parte il crollo dopo lo scandalo della destra. La vittoria invece è confortante e forte per la sinistra, per il Partito Socialista, in Spagna, dove si conferma il PSOE del Premier il primo partito. Ma c'è un dato comune, per la prima volta da 20 anni, da quando si vota, che cosa c'è? C'è un dato complessivo europeo che supera il 51% dell'affluenza e questo è un dato confortante e importante. E per l'Italia si preannuncia qualcosa di non lontano, anche se in passato in generale in Italia si votava molto di più. Cristina, Fantoni, ci sono a questo riguardo altri elementi? Sì, la valutazione che si può fare è quella della tendenza, proprio sull'affluenza, le urne rispetto alle europee. Il grafico che ti posso mostrare è la tendenza decisamente in calo degli ultimi anni. Ricordavamo il dato, quel 58-69, a cui ci siamo fermati nelle europee del 2014. Naturalmente è un dato di chiusura, quello che vi potremmo dare intorno alle 23 e 30. In questo momento, come dato, siamo al 43 e 62, dicevo, siamo fermi alle 19, con un dato mediamente, dicevo, in crescita al nord e mediamente in calo al sud. Questo per quel che riguarda l'affluenza e con la possibilità, vi dicevo, di ricordarvi anche quelli che sono gli italiani coinvolti in questo voto, i 51 milioni per le europee, i 16 milioni per le comunali, 3 milioni e 6 per le regionali in Piemonte. Saremo gli ultimi a finire di votare, ma poi avremo, vi dicevo, l'affluenza nel giro di mezz'ora al dato definitivo e poi naturalmente tutto il resto che racconteremo di qui in poi. Diciamo che forse, Gran Bretagna permettendo, saremo anche gli ultimi a dare i risultati definitivi. E probabilmente, ci risentiamo con Cristina Fantoni, probabilmente sarebbe stato della partita anche lui se non fosse stato malato da tanto tempo. Se ne è andato oggi un giornalista popolare, Vittorio Zucconi, che è stato corrispondente dall'estero e non soltanto dagli Stati Uniti, dove era poi da tanti anni prima della stampa, poi del Corriere della Sera, poi di Repubblica. Polemista bonario ma puntuto, stato anche alla guida di Radio Capital, lo si è ben conosciuto nelle sue uscite sui giornali ma anche televisive. Vittorio Zucconi era modenese e figlio d'arte, per così dire. Il padre è Guglielmo, a sua volta un grandissimo giornalista. È un giorno da questo punto di vista dolente per chi fa questo mestiere e quando se ne va una figura popolare, che spero in queste ore sia ricordata con rispetto e con simpatia anche da chi lo ha versato, è sempre un momento difficile. Andare avanti vuol dire anche onorare questo mestiere che è fatto anche delle notizie che riguardano quelli come noi che a un certo punto si mettono ai lati, non ce la fanno, non ce la fanno, non vanno avanti. Salutiamo Vittorio Zucconi e un po' a lui dedicheremo anche il lavoro di questa sera e di questa notte. Tra poco dovremo essere collegati, vedo un cartello con Non è l'arena, ecco questo bellissimo cartello che ci fa capire e che ci collegheremo tra poco con Massimo Giletti. Non mi resta però che dirvi un'altra cosa, che in Piemonte, torniamo alle elezioni, in questo caso le regionali, perché le regionali di Piemonte sono il momento più atteso al di là delle europee. Poi sappiamo si votano in città importanti, da Firenze a Bari, da Perugia, insomma inutile vele elenchi tutte. Ma le regionali di Piemonte sono molto importanti anche per lo scontro che si profila tra il governatore uscente del centro-sinistra Chiamparino e l'esponente del centro-destra Cirio. Ebbene, l'affluenza in Piemonte era già del 49,7%, che è molto alta ovviamente. Fa capire come sarà combattuta questa partita. Ed è l'occasione anche per me per dirvi che di quelle elezioni si parlerà soprattutto domani pomeriggio, perché lo scrutinio, a differenza anche per le europee, inizia domani appunto alle 14. Come dire, un'elezione, una maratona, se volete, in due tornate. Quella europea fino alla fine della mattinata di domani e quella amministrativa, regionale e comunale, è da lì in poi. Vedo materializzarsi, se non è una fotografia, perché è fermissimo. No, non è una fotografia. Massimo Ciletti, buonasera Massimo. Buonasera direttore, eccoci qua. Allora, siamo qua, tra poco entriamo nel, dopo TG, faremo, non è la maratona questa sera, perché tu parti alle 10 e mezza, grande successo, farai gli straordinari, quindi noi dopo di te partiamo con non è la maratona, anziché non è l'arena. Spero che tu venga poi a trovarci, no? Appunto a me, arrivo, appena finisco qua, pioggia permettendo... Poi venisti anche in una maratona quando non eri dei nostri, quindi fu una partecipazione straordinaria, in tutti i sensi, indimenticabile. Senti, allora, quante sorelle Napoli oggi? Qual è la dose quotidiana? La dose settimanale? Allora, allora no, le sorelle Napoli le salutiamo, le tre donne straordinarie. No, poi tra l'altro ho scoperto che entri nella letteratura contemporanea, grazie a loro è uscito il tuo libro sulla loro vicenda, adesso noi ci scherziamo, ma è meritorio che tu abbia messo nero su bianco su questa vicenda, non soltanto per via televisiva, perché poi le nostre parole a volte vanno via, ma quell'inchiesta giornalistica, ho già cominciato a leggerlo, poi ho dovuto cominciare a guardare le percentuali europee, queste cose. Vabbè, ci vediamo, no, è un bel viaggio in una terra meravigliosa come la Sicilia, con tante contraddizioni, ma tre donne coraggiose come loro che raccontano che un'altra Sicilia si può. Quello è importante, ci vediamo dopo da te, faccio un salto, adesso ti lascio chiudere il telegiornale. Grazie, Enrico, ma dimmi che cosa c'hai, non c'hai le Napoli, non è l'arena, non è la maratona, non puoi parlare di politica. Ah, lo spiegherò. No, non si può, non si può. No, abbiamo tre storie, abbiamo una donna di grandissimo coraggio anche lei, una dottoressa che fa una battaglia fortissima per tutte le donne che lavorano da sole in luoghi estremamente difficili. Alla Sardoni? Ha raccontato la violenza. No, no, è una storia forte. La Sardoni, dove è già davanti, dove l'hai messa la Sardoni? Davanti a Salvini, se si può dire il nome. Eh no, siamo ancora, non si può, io ti dico Di Maio, così siamo pari, tu di Berlusconi che lo conosci meglio, Zingaretti, siamo gli ammianetti tutti. Ci vediamo allora. A dopo, grazie. No, è Celata, dov'è Celata? Guarda, te lo faccio vedere. Celata, vieni qui. Perché ormai Celata è il jolly, va in tutte le trasmissioni. Se ci sentiamo la domenica, sono io. Eh, ecco, sei contento? No, perché mi manca, non l'ho più visto, ieri non c'era propaganda, perché l'altra sera c'eri tu. Eh sì, scusa, scusa, se mi sono permesso. Volevo avvertirti, ma l'ho trovato occupato. Eri dalle Napoli. Saluti all'Affanuele. Ciao, eh. Ci vediamo dopo. A dopo. Grazie, a dopo. È tornato Giretti, è tornata anche la voce, sono contento io, spero un po' anche voi. Allora, dopo la pubblicità vi dico bene cosa ci aspetta alle 10 e mezza. Ecco, è già riscuote, già riscuote, non soltanto gli applausi dei suoi, ma è già riscuote la vittoria a Parigi. Marine Le Pen saluta e se ne va. Noi stiamo per salutare a nostra volta e vi faccio però vedere dove si dislocheranno come sempre tutti i nostri ospiti questa sera. Abbiamo i nomi che potete immaginare da Bekis, li vedo un po', Gomez, vedo Cazzullo, Sorgi, Lina Palmerini dietro di me, Giannini, Giletti anche arriva, Marco Damilano, insomma, Mario Secchi, tutti quelli che potreste immaginare e abbiamo cercato di avere tutti i protagonisti dell'opinionismo italiano, quelli reputati, quelli che avendo posizioni diverse possono contribuire a dare subito un segno di valutazione rispetto ai risultati che arriveranno già dalle 23. A me non resta che darvi appuntamento a subito dopo le 10 e mezza, del resto se vedete Giletti subito dopo ci siamo noi, tant'è che ci viene appunto anche lui. E poi faremo nottata insieme, se vorrete, detto molto castamente, come è chiaro, e anche domani per tutta la giornata perché poi dopo lo spoglio sulle elezioni europee ci sono le regionali e le comunali, un'altra partita importante. A dopo!